Ciao a tutti e benvenuti nuovamente sul mio canale. Oggi è il 13 di aprile e sono le 8 di mattina. Faremo un bel volo di due ore circa per andare a salutare gli amici dell'aeroclub di Sassuolo che hanno organizzato il consueto Emilia Fly Meeting, manifestazione dedicata al mondo del paramatore ma che ormai è diventato un raduno cult per festeggiare l'arrivo della primavera. Il volo arriverà in un prossimo video quindi catapultiamoci subito all'aeroclub di Sassuolo per vedere che cosa si è visto. Mi raccomando like al video e iscrivetevi al canale se questo video vi è piaciuto. Grazie! 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 Grazie a tutti! 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 a tutti! Grazie 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 a tutti! 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 Perfetto! va bene! ok tutto a posto? tutto bene? ecco qua il 07S, la 07 del Thomas l'M22 di Antonio Cafare un attimo 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 Asi Grazie a tutti. 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 Non ho avuto molto successo a quest'aeroplano purtroppo. Grazie a tutti. Ci diamo anche un'occhiata dentro. Bello. Beccalima. Beccalima. Bello. Qua seguiamo di livello. Beccalima. 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 Anche loro apprezzano. Sì. Direi di sì. Sono belli tranquilli. Beccalima. Ok. Altri due. Begli r22. E. bello 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 dei paramontoristi oggi mi sento già meglio oh le belle donne si no quello no non ce l'avevo non ce l'aveva? no dove è finito questo è questo è il mio paramotore davolo 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 grazie